Buongiorno, buona mattinata a tutti voi, buon inizio di giornata, siamo qui come sempre per la rassegna stampa di Fano TV, canale 17 e naturalmente i giornali sono pronti, li abbiamo già qui, vi faremo vedere i titoli principali, il resto del Carlino e Corriere Adriatico ma prima guardiamo il Santo del Giorno, l'Almanacco e poi le previsioni del tempo oggi è venerdì 3 marzo, la Chiesa osserva il Beato Innocenzo d'Aberzo e il sole sorta alle 6.40 e tramonterà alle 17.59 giornate sempre più lunghe e quindi il sole ci bacia fin dal mattino presto vediamo come sarà l'evoluzione del tempo per le prossime 2 giornate, 2-3 giornate vediamo le previsioni per oggi, sereno, poco nuvoloso, nessuna precitazione, lieve diminuzione dei valori massimi però i 20 sono in regime di brezza e il mare poco mosso, quasi calmo, nessun fenomeno particolare quindi insomma un tempo abbastanza stabile domani, sabato, il tempo in voce cambia stando insomma la protezione civile abbastanza radicalmente inizialmente poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata precipitazioni nel pomeriggio, deboli rovesci sparsi, più probabili nelle zone interne e anche nel settore centro settentrionare le temperature continueranno a scendere nei valori minimi ci sarà un rafforzamento dei venti e il mare passerà da mosso a molto mosso anche domenica sinceramente non è molto migliore perlomeno sulla carta la situazione più o meno la stessa di sabato come previsioni nuvoloso settore meridionale, copertura nelle ore centrali della giornata però ecco, ampie schiarite dal tardo pomeriggio quindi danno un'evoluzione in positivo dal pomeriggio in poi del tempo le precipitazioni ci saranno nella tarda mattinata anche rovesci sparsi però più che altro nelle zone interne e nel corso del pomeriggio saranno in esaurimento in aumento i valori minimi quindi ci sarà una ripresa delle temperature insomma questo è perlomeno per quanto riguarda il tempo quindi insomma sulla carta non si preannuncia un fine settimana all'insegna del sole pieno però vediamo insomma il tempo riserva sempre una porzione di variabilità che insomma si fa sperare sempre al meglio iniziamo con i giornali, partiamo dal resto del Carlino è la pagina di Fano, vi porto subito dentro la pagina che riguarda Fano perché occupa uno spazio pubblico però tutti assolti i ragazzi del Grizzly il PM aveva chiesto condanne e multe ma il fatto non sussiste Giulio Verna dice è una sentenza storica che servirà anche agli altri abbiamo bonificato la zona e qui vedete un blitz delle forze dell'ordine in un momento in cui i ragazzi erano all'interno della struttura che si trova nei vecchi spazi dell'aeroporto quella era la casina del custode se non erro rimaniamo sempre nelle pagine di Fano si parla di sanità, sanità è bollente perché no all'ospedale unico da domani al via le firme a Palazzo Gabulcini ci sarà un gazebo, un tavolino dove ci si potrà registrare e firmare per chiedere appunto il minimo di 1100 firme per far approvare il patto di piagge al Consiglio Comunale 5 Stelle, accuse al Comune per fare la piscina si deve si svende la casa per anziani al fondo Cives l'impianto sarà fatto dopo che la fondazione avrà venduto avrà ceduto la residenza l'ultima pagina che riguarda Fano per il resto del Carlino si parla di una pagina, di una piaga che insomma non accetta assolutamente a diminuire parliamo dello stalking e della violenza e i maltrattamenti sulle donne c'è un arresto per stalking e maltrattamenti ma la madre non lo vuole ai domiciliari Mondolfo, un uomo di 52 anni finisce in carcere dopo essere stato rifiutato dalla famiglia ancora il resto del Carlino pagina di apertura che riguarda anche le notizie così in generale centropagina fotonotizia di un Ricci che fa selfie e fotografie per la città il sindaco dichiara guerra al brutto dopo che ieri c'era stato appunto l'articolo del resto del Carlino dove mostrava appunto gli ecomostri li vedete qui insomma in questa sequenza di scatti e risponde rapidamente il sindaco degli hashtag vi sistemo io sarà un altro hashtag questo qui? non lo so, probabilmente però questa è la sua intenzione la scuola di Via La Marmora bella, grande e già finanziata fondi fuori dal patto dei 6 milioni più cemento che legno ma si parte e poi gli altri lanci degli articoli all'interno ve li faccio vedere nel pieno eccolo qua si parla sempre di sanità a puntare il dito contro la visione di Ceriscioli e della Regione sono i sindacati che non si fidano proprio Ceriscioli basta con gli spot messe in discussione le assunzioni sono lavoratori o contratti insomma pressing senza respiro nel mirino della triplice anche Marche Nord e l'area vasta triplice insomma dei sindacati CGL, CISL e UIL vedete lì qui insomma Simona Ricci e gli altri vertici da dicembre non rispondono più agli appelli dei sindacati cambiamo testata andiamo nel Corriere Adriatico anche qui insomma cronache e un po' di sanità sotto un'altra visuale quella dell'inquinamento comunque sempre sanità pubblica è inquinamento non da tregua impennata dei valori fuori legge polveri da due mesi già registrate decine di sforamenti e poi corso senza auto ma solo la domenica siamo nella fotonotizia che riguarda Pesaro e allora eccolo qua corso senza auto proposta dei negozianti ma soltanto la domenica sempre in tema di risparmio energetico e anche di fruibilità degli spazi vedete qui il sindaco Ricci Davide Ipaso di Confcommercio che insomma degrada il coro urbano il sindaco appunto dichiara guerra al brutto controlli sui mobili molteremo chi sgarra e poi insomma ecco i lavori e i cantieri che dovrebbero essere messi in piano impennata appunto dicevamo delle polveri sottili qui nel Corriere Adriatico c'è tutto il quadro di questi sforamenti così potete vedere l'evoluzione anche fanno insomma se Pesaro se la batte male anche fanno come vedete i valori sono sicuramente interessanti impennata delle polveri boom di smog oltre la media 60 giorni di sforamenti respiriamo area da mascherina area da mascherina vedete i vigili urbani la Polizia Urbana che insomma quotidianamente è in mezzo al traffico vedete questi due agenti indossano una mascherina anti polveri sottili andiamo a Urbino con il Corriere Adriatico Scaramucci Sferza Gambini Turismo serve più coraggio è da tempo che sulle pagine del Corriere si parla di turismo e di investimenti a Urbino e che cosa fare per rilanciare allora il segretario PD dice Sgarbi Tardivo proviamo a copiare chi fa meglio insomma un po' un modo alla cinese i cinesi sapete che scattano foto qualsiasi cosa e poi la ricopiano è così bisogna coinvolgere tutte le componenti attive della città intorno ad un progetto e poi Tagliolini il presidente della provincia dice provincia virtuosa la colpa è dei tagli quindi insomma parla di quelli che sono le difficoltà a far quadrare un bilancio insomma e tutti gli interventi possibili immaginabili che riguardano che riguardano il territorio all'interno Montecopiolo e Sasso Feltrio marcia verso la Romagna si riparla di questa eventualità di sganciamento dalle regioni di annessione in un'altra regione come è avvenuto anche in passato per altre insomma zone limitrofe e vi porto nelle pagine di Fano con il Corriere Adriatico per parlare ancora in questo caso di sanità però di assistenza sanitaria ai privati in cambio della nuova piscina è quello che dicevamo anche nelle pagine del resto del Carlino che è insomma il pensiero dei 5 stelle li vedete qui nel riquadro tutti e tre gli esponenti Marta Rogeri Adaro Miccioli e Fontana non capiamo il nesso tra la casa di riposo e l'impianto natatorio qual è il nesso che lega le due cose quindi i 5 stelle contro la cessione della Don Tonucci con attivazione di una nuova RSA poi sempre sull'ASET fusione ASET anche loro nei giorni scorsi sempre 5 stelle avevano avevano messo dei punti interrogativi su questa fusione e Teodosio Auspici il presidente di ASET Holding risponde qui nell'articolo potete vedere la replica di ASET Holding per la voce del suo presidente allora Fano torna la musica al Sant'Arcangelo si parla di una bella iniziativa sala prove aperte e incontri mirati svelato il programma degli eventi si parte domenica con Magnanelli vedete l'assessore del Bianco e Marchegiani e Paolo Casise che è insomma il presidente dell'associazione Fano Music Story che gestisce appunto gli eventi che ruotano attorno all'ex Sant'Arcangelo con quel bellissimo spazio a disposizione di tutte le band e di giovani che possono provare insomma è l'ideale per una band poter provare in uno spazio adeguato e fatto appositamente per loro si parla di rifiuti nel parcheggio della guardia medica sacchi della spazzatura abbandonati rabbia dei residenti ci abbiamo fatto un articolo anche noi un reportage e vedete qui insomma la situazione a distanza di giorni l'abbiamo fatto la settimana scorsa non è cambiato molto continua e persiste questa questa questo stato di degrado nei parcheggi davanti alla guardia medica e pronto soccorso come vedete nelle foto del corriere Adriato che cosa è dovuta questa situazione è dovuta più che altro all'assenza di cestini porta rifiuti ce n'è soltanto uno all'ingresso dello spazio che porta al pronto soccorso è un cestino benché grande però non può contenere tutti i rifiuti che i tanti utenti hanno necessità di rifarsi che passano per quel parcheggio quindi servirebbe qualche cestino in più e un po' di educazione civica migliore Valcesano Valcesano Sagra Polenta quando il piatto si sposa col gusto il centro storico presentata la Sagra Polentara di San Costanzo la Sagra più antica delle marche è arrivata la sua 205esima edizione vedete qui il numerino che però siccome si fa due volte all'anno quindi dividiamo per due ma sono più di cento anni di tradizione di storia vedete qui la Proloco nella figura del Presidente Vice Presidente e il gruppo dei giovani Proloco grandi fucine di eventi e soprattutto grande volontarietà per valorizzare ognuno il proprio territorio se non ci fossero le Proloco tantissime cose non si riuscirebbero a fare in un territorio così votato anche al turismo come il nostro poi sempre dalla Valcesano perseguita l'ex arrestato a scuola l'uomo accusato di maltrattamenti al figlio bloccato mentre andava a prendere il minore a posto resistenza ai carabinieri di Mondolfo lanciando anche minacce di morte all'indirizzo della donna carabinieri quindi al lavoro vi faccio vedere le ultime due pagine che riguardano come sempre Senigallia la limitrofa Senigallia lavora 24 mesi alla Sacialite e si ammala dopo 61 anni questa è la storia di Bruna Livieri Luvieri che chemioterapie contro la masotelioma l'hanno portata a questo stato mi attiverò affinché venga risercita come tutti gli altri nonostante si sia ammalato dopo così tanto tempo qui vedete nella foto la vecchia Saceli di Senigallia che è stata rasa al suolo solo pochi anni fa e sotto la persona la signora indicata appunto nell'articolo la signora Bruna altra pagina che vi propongo l'ultima per questa rassegna stampa sempre di Senigallia automobili con il motore acceso davanti alle finestre della dialisi Solazzi dice c'è gente che fuma e che trascorre la notte al pronto soccorso questo è un annoso e vecchio problema che riguarda un po' tutti gli ospedali d'Italia e della zona insomma abbiamo visto altri articoli a questo riguardo bene questa era l'ultima pagina che vi proponevo questi erano gli articoli principali naturalmente poi insomma i giornali vanno comprati gli articoli vanno approfonditi dal vostro edicolante di fiducia per la rassegna stampa di Fano TV è tutto io vi ringrazio questa sera vi ricordo occhio alla notizia puntualmente alle 20 e 30 buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie a tutti Grazie a tutti.